Enrico Papi si confessa, poso a torso nudo anche se sono ridicolo. Cosa nasconde la sua vita privata? La rivelazione shock nell'intervista al Corriere. Se vuoi scoprire il lato più intimo di Enrico Papi, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video, scoprirai confessioni sorprendenti sulla sua vita privata. Grazie mille! In una recente intervista al Corriere, Enrico Papi ha svelato il retroscena della sua lunga carriera televisiva e ha raccontato i segreti della sua vita privata, senza filtri. Tra i tanti argomenti toccati, ha spiegato il motivo dietro le sue foto a torso nudo. È nato per scherzo, ma ricevevo così tanti like che ho continuato. È un modo ironico per autopercularmi, lo so che è ridicolo quello che faccio, ma mi diverte. Ma le confessioni di Papi non si fermano qui. Ha parlato apertamente del suo orientamento sessuale, definendosi fluido. Potrei innamorarmi di un uomo o di una donna allo stesso modo, mai avuto nessun tipo di preclusione, ha dichiarato senza mezzi termini. Inoltre, ha condiviso dettagli intimi sulla sua vita matrimoniale con la moglie Raffaella Schifino, con cui è sposato da 26 anni. Enrico Papi ha anche ripercorso alcuni momenti salienti della sua carriera, compresa l'esperienza travolgente con Sarabanda, che ha ammesso di averlo portato a perdere la percezione della realtà. Era come stare in un grande fratello, non riuscivo a distinguere la realtà e la televisione, ha confessato. Vuoi scoprire tutti i dettagli delle confessioni di Enrico Papi e i segreti dietro le quinte della sua vita? Iscriviti al nostro canale per non perdere neanche un aggiornamento sul presentatore più amato dagli italiani!